ecco di qua scusi mi ritardo è ma ci ho messo un bel po per paccheggiare ma c'è una bella notizia l'appartamento che stiamo per andare a filmare è dotato di un posto auto comodissimo di proprietà siamo al centro del quartiere piccone l'appartamento è un bellissimo pentavani a un piano intermedio anzi medio alto se sei curioso non devi far altro che passare il solito berretto quello qua e andiamola a vedere insieme eccoci arrivati siamo al quinto piano in via de ferraris in un appartamento di dimensioni generose circa 160 metri quadri un pentavani con doppia esposizione quindi molto luminoso e con una disposizione degli ambienti davvero ottimale al momento siamo nel salone doppio che potrai agevolmente trasformare nel tuo ambiente living a vista perché no anche unire alla cucina e qui alle mie spalle facendolo diventare il tuo open space grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti veniva non solo le camere ma anche gli accessori sono molto comodi, la cucina è pienamente abitabile così come abbiamo due bagni all'interno e una lavanderia ripostiglio all'esterno, con una ristrutturazione sono certo che riuscirai a rendere quanto mai questa casa attuale e conforme alle tue esigenze abitative, oppure se la tua esigenza è quella di un investimento, allora l'immobile è pienamente abitabile con un numero di camere sufficiente a giustificare la locazione e uso transitorio. L'immobile è posto sul mercato ad un prezzo in linea con i valori di riferimento quindi come puoi ben prevedere siamo certi che non resterà a lungo in vendita o probabilmente sarà venduto già in open house, quindi non ti resta che chiamarmi molto rapidamente, io sono Umberto Rossano, il tuo consulente immobiliare Remax Stella Polare.